Generalmente la gente mi conosce come trasformista, come attore, come mago, però devo dire che con l'avanzare degli anni preferisco fare anche il regista. Sono già il regista ufficiale di Aldo Giovanni e Giacomo in tutti i loro spettacoli teatrali e altri, ma nei miei spettacoli ovviamente sono io che creo tutta la storia e anche questa volta mi sono inventato una storia un po' strampalata per presentare uno spettacolo che in fondo è di varietà. Immaginatevi che siamo nel deposito universale delle valigie dimenticate, cioè sono partito da una fotografia che ho visto su internet in un sito, c'era il deposito delle valigie dimenticate in India, sembrava una cattedrale di valigie impilate di tutti i colori, immaginatevi, bellissima fotografia e mi sono detto ma quelle valigie parlano, hanno una storia, ognuna di loro, aprendola, ha un mondo che nasconde, un mondo di sogni, di ricordi e mi sono detto se io venissi catapultato in questo posto cosa farei? E ovviamente comincerei ad aprire tutte le valigie per scoprire un po' curiosare nella vita degli altri. Lui vive in questo luogo, quindi parlami del tuo personaggio per esempio. Allora il mio è un personaggio un po' strano, sempre con le cuffie che ballo, almeno ci provo, quindi con le cuffie ascolto sempre la musica, me ne frego di quello che mi dice Arturo e gli altri colleghi che provano a cercare anche loro le proprie valigie, io me ne frego, ascolto la musica, mi guardo le cose che ci sono dentro le altre valigie, faccio i miei giochi così. Soprattutto, a un certo punto gli chiedo, ma tu non senti bisogno di una fidanzata? Lui fa, ce l'ho, come ce l'hai? E dico, ma come fai a mandarle delle lettere che qui siamo fuori del mondo? E lui mi fa vedere che scrive una poesia d'amore, la piega diventa un origami di colomba. Dico, ma questo vola? E ovviamente nelle sue mani, quell'origami di carta diventa una colomba e poi diventa un bellissimo numero di colombe di cui lui è campione. E quindi in questo posto strampalato succede di tutto. Succede di tutto proprio in maniera anche repentina, perché essendo un spettacolo di varietà, ma non varietà la mossa, varietà internazionale, varietà 2014, ogni quattro minuti cambia di spirito. per tre minuti, quattro minuti è comico, poi per cinque minuti è drammatico, poi è poetico, poi di nuovo comico, poi è surrealista, poi c'è il maiale di Pinkfoyn che vola e scimemi, gli spara, diventa un maialino di plastica con cui lui fa un 1-1-1, una serie di gag. Cioè, anche visualmente è pieno di sorprese. Se un salto mortale faceva effetto 3.000 anni fa, fa ancora effetto adesso, quindi non è che muoce, e farà effetto tra mille anni, perché quando l'essere umano fa delle cose speciali, uniche, magiche o sorprendenti, rimarrà sempre agli occhi degli altri un supereroe. In quel momento lì, nello spettacolo, adesso faccio dei pezzi nuovi con la sabbia, disegno sulla sabbia e la gente è affascinata. Ovviamente è una cosa che se uno si mette lì, in un mese, a casa propria, si costruisce una cosa simile, potrebbe fare, ma vederlo così in teatro immediato, con un tema, con una storia, affascina. E questo, per fortuna nostra, il teatro di varietà non morirà mai, anche se magari, come è successo, va giù di moda. Il circo era andato in disuso fino agli anni 70-90, fin quando è arrivato il Seu du Soleil, che ha reinventato completamente il circo, ma fanno gli stessi esercizi che facevano 50 anni fa i nonni degli acrobatic che sono lì adesso. Nel nostro mestiere, gli imprevisti sono sempre lì, è in agguato, perché è pieno di momenti di impasse tecnici, e quindi spesso, spesso devo dire, ci sbagliamo, ma spesso la gente non se ne accorge. Mi è capitato di cadere volando, e la gente dice ah, sembrava che fossi sparito, che diventassi una girandola di sete, e poi dopo sei caduto, è stato bellissimo. Intanto io sono caduto da tre metri, mi sono spaccato il dito del piede a Torino qualche anno fa. mi è capitato di arrivare in scena a non trovare un pezzo di un costume, di fare non solo la trapezista di un film di Fellini, senza la parte di sopra, quindi mi sono coperto così con le mani, e dice, ma c'era la trapezista a Topless stasera, come mai? Dice, ma è un film di Fellini che non è mai uscito. La gente, poi specialmente in Italia, che siamo abituati un po' a tollerare cosa succede in politica, e quindi è anche più tollerante. Se c'è un guasto tecnico, per esempio in uno spettacolo in Italia, è molto più tollerato che all'estero. Se devo dire, scusate, è partito il computer, dobbiamo avviarlo, riavviarlo, la gente si fa una risata e buonanotte. All'estero è un po' più, diciamo, meno male che siamo qua. All'estero è un po' più, diciamo, meno male che siamo qua.